E' una musicista, cantante, autrice italiana classe 1985. Sei album all'attivo, il settimo previsto per il 2020. E' uscito il 29 novembre il nuovo singolo Vento sulla Luna. Ai trafficanti di R101, Annalisa. Ciao! Che figata di presentazione, ma che bello, grazie. Non lo facciamo per tutti, eh. Bugiardo, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Nuovo singolo, nuovo lavoro, nuovo progetto discografico in arrivo probabilmente in primavera. Quando si annuncia di solito vuol dire che siamo quasi in punto d'arrivo. Ci siamo? Diciamo di sì, ci sono ancora delle cose da sistemare, ma poca roba, dai. Primavera nell'anno prossimo è l'obiettivo e così sarà, spero, insomma. E nuovo singolo, nato a Milano, tra l'altro. Sì, nato a Milano, in studio, una giornata di scrittura con Dardas e con Franco126. Nasce Vento sulla Luna, che poi subisce una serie di trasformazioni, passando poi tra le mani di Arcomi, che ha scritto la sua parte, è venuta fuori la versione definitiva, che è uscita, e siamo tutti molto gasati. Senti, ma il team pot pazzesco comunque, i nomi che hai detto, Dardas, quindi Dario, Franchino, cioè un cazzino di... Che quartetto pazzesco di gente, sì. Come si fa con tutte queste teste poi a trovare una chiusura comune? Perché poi magari ognuno vuole mettere, no, ma quello non piace a me quello sì. Ma guarda, in realtà è andato tutto molto serenamente, molto naturale da subito, anche in studio, quando i primi giorni, appunto, ormai marzo scorso, con Franco e Dario ci siamo visti, siamo andati subito super d'accordo, la canzone è venuta fuori in maniera naturale, senza troppi sbattimenti o forzature, e la stessa cosa è successa poi dopo con Mirko. E tutto questo perché ha deciso lei. Essendo donna, all'interno di un quartetto aveva il diritto. Nella convivenza si sa. Dai, ognuno ci ha messo il suo, diciamo così. È vero che quando succede così vuol dire che la magia ha funzionato. Bravo, bravo, se no non saremmo qua a parlarne. Esatto, e poi quando... Ci scappava il morto. Quando si prova a forzare durante la scrittura, poi molto spesso si arriva ad un... Non ha senso. ...vicolo cieco, strada chiusa, e dice vabbè, la teniamo lì. E vediamo cosa succede. Più avanti, magari ci riproviamo. Posso chiederti una cosa? Sì. Tra i tuoi primi brani c'è, non so ballare, se sei arrivato nell'ultimo video, balli. Che è successo in mezzo? Pazzesco, lo so. No, ci ho pensato... Lo so, lo so, c'hai ragione. Ma me lo chiedo anch'io, sai. No, in realtà sono successe un po' di cose, mi sono un po', diciamo, evoluta, oppure involuta, non lo so. Però comunque mi sono liberata un po' di una serie di... di freni, sai, quelle cose lì che all'inizio un pochettino ti vergognano, sai bene come porti e tutto. E diciamo che la musica e anche tutto il resto legato alle canzoni rispecchia un po' più questa libertà, anche più maturità. E quindi va benissimo così, dai. Bello. Ci piace questa analisa che balla. Mi muovo in maniera incosciente più che ballare, però va bene. È giusto seguire l'istinto, però, eh. Esatto. Perché se la canzone ti porta a quel movimento è giusto sfogarsi. Ma sì, dai. Senti, tornando alla scrittura, hai un passato musicale iniziato con una band. Immagino, sa le prove di quelle anche un po' puzzolenti. Assolutamente sì. Che sono quelle che capitano di solito con le band. Cantine. Esatto. Bunker. Noi, io, l'ultima band con cui, insomma, facevamo prove, eravamo in un bunker sotto una bocciofila. Ok, ok, ok. E sopra c'eravamo i shuri che giocavano a bocce. Cioè, che bell'incontro generazionale. Vero, che bello, esatto. Che figata. Ti manca un pochino quel modo, quella tipologia di... La bocciofila. No, la bocciofila. I signori, le gare sopra. Il bianchino. Era un modo un po' differente, diciamo, sicuramente un po' più terra terra, ma divertente in un'altra maniera di creare. Ma sì, era molto bello. C'era tanta poesia, ecco. E quindi, diciamo che i giorni, le notti trascorse nelle salette sono la ragione che poi spinge a fare questo ogni giorno, no? Quindi, tanta roba. E nel frattempo, stai anche facendo la coach, la giudice a Future Legend. Eh sì. Eh sì. Trovi meglio a giudicare o a essere giudicata? Perché poi giudicare non è sempre così facile come sembra, anzi... Lo so, è bruttissimo. Ma in realtà, fortunatamente, con Future Legend non è stato tanto richiesto di giudicare, quanto comunque di cercare di aiutare i ragazzi, le probabili Future Legend, a tirar fuori il meglio. Quindi non era una cosa di puntare il dito e dire no, tu non mi piace. Era più, anzi, tirar fuori le cose. Motivazionale. Bravo, motivazionale, esatto. Senti, siamo in un mondo parallelo. E accendi la TV e vedi Annalisa ad amici qualche anno fa. Oddio. Vedi te stessa. Cambio canale. No, cambierò. Ma perché? Ma cosa le diresti? Cosa le diresti? Un sacco di cose. Diciamo che direi, vabbè, pensa un po' di meno e sbaglia un po' di più, con molta più serenità e veramente più istinto e meno pippe mentali. Quindi eri più bacchettona con te stessa? Ero molto più insicura, lo sono tuttora, non ho problemi a dichiarare la mia insicurezza, però ero molto preoccupata di quello che poteva arrivare alle persone, mentre ora non lo sono più, ecco, non ho più l'ansia di piacere a tutti e va benissimo così, ecco. Senti, siamo quasi a fine anno, dovessi fare un sunto del 2019, com'è andata? Bilancino? Beh, allora, il 2019 è stato un anno di lavoro non tanto in prima linea, perché comunque ho più che altro scritto, ho pensato al progetto futuro, alle canzoni singoli possibili, le cose, quindi è stato un anno di lavoro in studio. Un anno di semina. Di semina, sì. Un trampolino verso il 2020 che sta arrivando. Esatto, sì, però devo dirti che io amo molto questo periodo, cioè questa fase del lavoro mi piace parecchio, forse la preferisco anche. Perché forse già pregusti quello che sta arrivando, comincio a immaginare. Mi faccio dei film mentali, cerco di ipotizzare, progettare, potrei fare un video così, far uscire questo singolo in quel momento, magari con questa collaborazione, cioè mi piace molto. Per forza poi ti sei sfogata nel ballo, perché tutti questi pensieri dovevano essere sfogati. Ci sono mesi che aspettavano. Non vedeva loro. Esatto. In realtà quei passetti sono studiatissimi. Dato che scherziamo che questo trio ho messo qua e tu li fa molto interrogazione, facciamo un'interrogazione a questo punto. Ma tranquilla perché tanto l'oggetto di studio sei tu, quindi... Speriamo di sapere. Chi ti conosce meglio di te? Capace che non so rispondere a domande su di me, sarebbe fantastico. Secondo me le sai tutte, perché il gioco è Anna Lisa versus Anna Lisa. Ok. Un minuto di tempo, vediamo quante ne becchi. Pronti. Vai. Che giorno della settimana era il 5 agosto 1985? Mercoledì? A caso. No, lunedì. Quale dito è una nota musicale tatuata? Vabbè, sull'anulare sinistro questa... Uno! Succede tutto per una ragione, per una ragione. La ragione magari... Sei tu. Sei tu. Raga, dai. Prima volta a Sanremo, in che anno? 2013. 13! Tra quanti minuti è primavera? Due. Due. Attenzione. Con quale voto ti sei laureata? 96. Yes! Una cosa che ti piace mettere nel toast? Beh, l'avocado. Giusto? Yes! Quanti follower hai su Instagram? Un milione e tre. Yes! Traccia numero quattro dell'album Splende? Oddio, traccia... Questa non la so. L'ultimo addio. Sì, è così troppo facile però. Due cuori nella pallavolo. Di chi stiamo parlando? Beh, di mille sci. Di chi era la colpa del tuo programma TV? È tutta colpa di... Beh, ce ne sono stati quattro! Uno qualsiasi! Einstein! Va bene, perfetto! C'è una ragazza sul tram, cosa fa? Balla! Oh yes! Allora, è record! Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici! Undici, siamo a record! Siamo a record! Dai, dai! Super, super brava! Allora... Possiamo dirlo che ha battuto Levante? Ha battuto Levante. Che è arrivata? Ma ha battuto anche Benjaffede. Levante 9, Benjaffede 10. Quindi sei in vantaggio. Glielo vado a dire, adesso li chiamo, raga! Abbiamo battuti! Quindi nuovo lavoro in arrivo in primavera, nuovo singolo appena uscito e già che ci siamo però vogliamo tornare a una tua canzone antecedente, ovvero Bye Bye. Grande successo! Assolutamente, siamo nel periodo natalizio, sappiamo tutti che si ricevono spesso regali sgraditi, soldi spesi per niente. Capita, capita, sì. E a questo punto... Per quanti soldi diciamo Bye Bye spesso, perché spendiamo per stupidaggini. Vero, quindi abbiamo un po' reinterpretato il tuo brano e lo canteremo insieme a te. Perfetto! Dopo questa introduzione così seria, non vedo l'ora di partire. Esatto. Bye Bye! Anche quest'anno a Natale, quanti regali da aprire, un tosta caffè, tazze da te, poi dove vanno a finire? Ho una camicia, che bella questa sciarpa grigia. Cosa sarà, che curiosità, ma grazie lo sai, mi serviva. Quello che poi non manca mai, è un bagno schiuma all'essenza di guaranà. Non c'è nessuno che mi dà la busta coi soldi, mai mai. Ti ho preso un bel pigiama che fa per te, con tutti i fiori, stile Hawaii. E un paio di pantofole caldissime, le ho prese ieri su ebay. Ogni anno mi sale sempre lo sclero, Natale non conta solo il pensiero. Piuttosto, guarda, non farmi niente davvero. Se c'è un altro pigiama, sai che c'è, te lo tieni. E bye bye! Oh yes! Signori, senza prove, senza niente, così. Che meraviglia. Questo direi che spiega molto. Che meraviglia. Direi che spiega molto. Ragazzi, siete stati veramente bravi, ve lo posso dire. Tu di più. Mi sono divertito di brutto. Tu di più. Regalo peggiore mai ricevuto, Annalisa? So che è una domanda brucia per. Regalo peggiore mai ricevuto. Il pigiama te l'avranno regalato. Oh sì, beh, il pigiama tutti gli anni. Mia mamma arriva ogni anno col pigiama. Io sono arrivato nella fase in cui il pigiama è un bel regalo. Cioè, mentre prima l'odio, però, meno male. Tu pensa agli altri. Noi ci auguriamo che il regalo più bello per il tuo Natale sia anche a posteriori, che il tuo prossimo disco possa vendere quantità industriali di copie. Ma magari. Quindi, è un auguro. Il Natale arriva prima del tuo disco, ma vale anche per l'anno seguente. Speriamo, speriamo. Non vediamo l'ora di vederti live. Dai, sì, pure io. Veniamo a ballare insieme a te. Dai, sì, venite a ballare. Ci sciolta, ci sciogliamo anche noi. Vi porterò un pigiama, ragazzi. Ok, ok. È stato un piacere. Grazie, anche per me. Grazie mille. Annalisa su R101.